la metto e non me la prende anche se puoi rilassare a passare difesa è un no che non può essere concordo credo che rinascerò schiantato sulla torre dc c'ho sta sensazione infatti si è morto il mercobesco ah ok no non l'ho vista la mia morte comunque no lo so io che se senti la mia bella si infatti no